Si concretizza sempre più la possibilità che anche a Cremona arrivi Bici in Città, il colosso del bike sharing già attivo in oltre 80 città italiane, da Roma a Bergamo, Brescia a Mantova e persino Casal Maggiore. Un vero leader del settore che arriva da Torino e consente l'automatizzazione del servizio, peraltro già presente a Cremona, ma con diverse modalità. È scaduto infatti ieri, il 15 luglio, il termine per la manifestazione di interesse al servizio di noleggio biciclette, ma è pervenuta una sola domanda, proprio quella di Bici in Città, che a questo punto si aggiudicherà il servizio senza troppi rivali. Anche altre ditte straniere, soprattutto francesi, si erano interessate al bando chiedendo telefonicamente informazioni, ma poi non hanno presentato domanda. Attraverso una tessera elettronica, queste immagini ad esempio si riferiscono a Brescia e ad Alba nel Cuneese, il bike sharing permetterà agli utenti di prelevare dalle colonnine una bicicletta, usarla per il tempo necessario e poi riporla in un qualsiasi ciclo posteggio in modo che il ciclista successivo possa utilizzarla. Ovviamente a pagamento, in comune nei giorni scorsi sono state approvate le tariffe massime, 25 euro per l'abbonamento annuale, prima mezz'ora gratuita per gli utenti occasionali, 80 centesimi per le mezz'ora successive. Sarà poi Bici in Città a valutare le tariffe definitive, eventualmente al ribasso. In molte cittadine del Piemonte, da Novara a Biella, Borgo Manero o Pinerolo, il servizio Bici in Città è comunque attivo, ma completamente gratuito.